Vicepresidente Montalbano, voi avete organizzato un incontro con i candidati a sindaco, ma la gente si chiede cosa può fare un sindaco oggi rispetto ai problemi dell'artigianato, che tipo di piattaforma ne è venuta fuori questa mattina? Intanto oggi noi abbiamo organizzato questa iniziativa che si presenta ogni cinque anni, quindi ogni qualvolta si presenta una reazione amministrativa. È un nostro uso dei dirigenti della CNA di Sciacca, comunicare l'assemblea dei soci del gruppo dirigente in particolare e mettere a confronto i sindaci, non sostanzialmente per avere una lettura del loro programma, che sostanzialmente è un programma che viene depositato lì all'atto della loro candidatura, ma bensì di riprendere piattaforme vecchie e nuove, per intenderci, sia delle amministrazioni che sono passate, ma anche l'evoluzione di normative che oggi siamo qui ancora a denunziare. Cosa può fare un sindaco? Noi comprendiamo benissimo che c'è una crisi che è al di fuori di ogni immaginazione. L'abbiamo sempre detto e sostenuto una crisi che è la più grave del dopoguerra. Sostanzialmente adesso stiamo cominciando a vedere un po' la luce in fondo al tunnel, ma è una questione di natura mondiale. Non proprio in questi giorni abbiamo una riunione a pochi chilometri da Sciacca del G7, proprio per decidere le sorti anche dell'economia mondiale. Cosa può fare un sindaco? Ci sono alcune questioni che sono inderogabili e che sono, come dire, questioni che possono e che devono essere in qualche modo affrontate a livello comunale, a partire dai regolamenti comunali. Abbiamo posto oggi il problema di adeguare i cotti infiduciari alla luce anche della nuova legge sugli apparti. Da questo piano regolatore, che riteniamo essere la madre di tutte le battaglie e per quello che rappresenta non solo per il mondo dell'edilizia, ma anche per l'interindotto, abbiamo sostanzialmente posto il problema a quello che è anche l'ambiente, lo smaltimento rifiuti e anche i requisiti che oggi hanno le imprese anche alla luce di nuovi adeguamenti. Per fare solo un esempio, oggi abbiamo lanciato un tema importantissimo che nelle altre città del nord si è cominciato anche qui a intraprendere, cioè quello degli spazi condivisi. Diciamo che in qualche modo la terminologia inglese parla di co-working. Oggi noi parliamo di spazi condivisi, cioè alla luce di una crisi noi riteniamo che almeno due o tre persone che svolgono la stessa attività possono condividere un laboratorio, uno spazio, avendo insieme e abbattendo anche i costi. Questo significa affrontare anche da un modo diverso il problema dell'abusivismo. Ecco capite, vi sono tantissime questioni che hanno a che fare con le amministrazioni, cioè che hanno a che fare con il comune, che esorano indipendentemente dalla crisi che oggi con evidenza noi constatiamo e che sostanzialmente cerchiamo da qui a qualche anno di uscire veramente fuori perché sono, come abbiamo sempre detto, le imprese, gli imprenditori e le piccole e medie imprese degli eroi ancora che svolgono l'attività fra mille difficoltà. Ecco, è anche un po' vero che le scelte politiche talvolta si scontrano con questo muro della burocrazia che frappone sempre ostacoli. Proprio uno dei punti, abbiamo posto 20 punti all'ordine del giorno, e proprio uno dei punti è quello dell'abbattimento, di quello che è lo scoglio burocratico, che da studi, diciamo, attenti incidono sulle ore lavorative di circa 35 giorni in un'impresa. Voi capite che un imprenditore perde circa 35 giorni, poi dovremmo fare il calcolo delle ore, rispetto a quello che è il disbricopratico e la burocrazia spicciola, che so, per la partecipazione che aveva a parte, e comunque adesso dobbiamo capire che le nostre amministrazioni devono dotarsi anche di quelle sono le tecnologie online, quindi la certificazione non intesa come il vecchio funzionario che è lì a rilasciare. Quindi l'osnellimento e quindi anche la meccanizzazione, o meglio, rendere tecnologico alla luce di strumenti web e quant'altro, anche le nostre amministrazioni. Queste sono cose fondamentali. Abbiamo, essendo la CNA, anche non solo un'associazione che rappresenta la piccola e media impresa di artigiani, ma è anche un'associazione che rappresenta, diciamo, quelli che furono i tempi imprenditori e che oggi sono i nostri pensionati, abbiamo anche dato l'input rispetto ad alcune questioni di quello che è il sociale, il pensionato ex imprenditore nel sociale, di riprendere quelle che erano le belle iniziative impegnando i nostri anziani negli spazi comunali e di renderle utili, socialmente utili, nel fare il vigile urbano così come si faceva davanti alle scuole. Ma una cosa bella è che sfruttare la loro esperienza del passato per creare quella che poi è l'università, diciamo, della terza età, e quindi mettere a disposizione ai giovani, diciamo, quello che era il loro mestiere, perché non un trasferimento anche, adesso si chiama know-how, ma diciamo il trasferimento dei vecchi mestieri e che possa anche creare nuove forme di lavoro. Un'ultimissima cosa, a proposito del piano regolatore generale sul quale il settore dell'edilizia può riporre delle aspettative anche per una ripresa. Lei, ricordo che è stato anche consigliere comunale nella seconda metà degli anni 90, ecco, sono passati più di vent'anni e siamo ancora qui a parlare di piano regolatore generale. Quando qualcuno dice, forse sciacca, c'è qualcuno che non vuole il piano regolatore generale, lei come reagisce? Ma questa è la cultura del sospetto, come anticamera è la verità, si diceva. In quel tempo non voglio riprendere quel passato, insomma, che fatto sta che c'è un dato evidente, vi è un piano regolatore ancora che si trova bloccato alla regione, nonostante ci siano delle tecole, diciamo, anche dei vincoli che sono certamente non... cioè che creano un problema anche nell'approvazione di questo piano regolatore. Ci troviamo di fronte anche a un vecchio piano regolatore, quindi ci troviamo con un vecchio piano regolatore con un pezzo reale delle 76, delle 80, 70 cose del genere, con un piano regolatore che non decolla. In termini PIL, cioè potremmo fare tutti i ragionamenti che vogliamo, sappiamo solo che bisogna, diciamo, da subito, la prima cosa che va fatta è accelerare. Io però mi sento di dire una cosa, oggi abbiamo assistito ad un dibattito bello, a un dibattito con toni molto pagati, con delle risposte precise, hanno risposto i candidati a sindaci presenti alle domande che venivano dagli imprenditori, dalla problematica spicciola al piano regolatore, alle questioni anche di collegamento, piano ASI, abbiamo ripreso la questione che riguardava anche le aree attrezzate rispetto al fatto che non abbiamo già denunziato da tempo che i prezzi non erano congrui rispetto e di prendere altre esperienze. È stata una bella, diciamo, assemblea, un bel incontro. Mi complimento con i candidati a sindaco nei toni, nel modo come hanno risposto e come hanno assimilato, insomma, le nostre programme. Mi auguro che ci sia da qui alla fine di questa campagna elettorale che si possano mantenere questi toni e che non si alzino, perché poi alla fine la gente ha bisogno di affrontare i problemi e devono spiegare e capire in che modo vogliono risolvere i problemi. Quindi questo è un appello che ci sentiamo di aver fatto oggi, di continuare, perché credo se ciascuno, e poi abbiamo anche sostanzialmente detto che la CNA è un'associazione di impresa, che ormai esce da quello stereotipo di vecchia associazione di sinistra, è un'associazione che ha aperto le porte anche a un pluralismo politico all'interno della nostra associazione. Non vi ha condubbio ciascuno di noi alle proprie idee politiche, ma in quel momento noi rappresentiamo interessi e rappresentiamo le imprese. In un momento dicevo come questo, quindi mi sento di lanciare ancora una volta un appello che penso è stato recepito, perché il cittadino, l'imprenditore, oggi ha bisogno di avere risposte e l'elezione comunale, anche per accorciare il distacco che vi è dalla politica, dalla politica politicante, quindi evidentemente questo è un buon approccio e mi auguro che ci sia il proseguo di questa campagna elettorale. Come si dice in gergo in questi casi, vincere il migliore, sono tutte delle persone rispettabilissime, ma evidentemente chi sia più convincente lo dimostreranno le urne.